Ehi la, ciurma, faccio questo brevissimo video per dirvi che effettivamente 1. Vi conviene seguire la pagina facebook per gli aggiornamenti E 2. Per chi non ha lasciato un mi piace sulla pagina facebook, di cui ricordo il link in descrizione Dico con questo video che non sto per niente bene e non sto per niente migliorando Anzi la febbre mi sta salendo in questi giorni Di conseguenza è questo il motivo per cui non stanno uscendo nuovi video Ne ho alcuni già che avevo preparato ma non ho assolutamente la forza per caricarli E la voglio assolutamente In più il medico mi ha detto di stare il meno possibile a computer Di utilizzarlo il meno possibile Niente, spero di guarire in fretta ragazzi E appena torno ci vediamo Scriverò non tanto regolarmente Però metterò degli aggiornamenti sulla pagina facebook O al massimo anche su google plus Ho messo questo video qua su youtube giusto per quelli che appunto non sono da nessuna parte Per ricordare loro che c'è una pagina facebook, c'è una pagina google plus Se volete restare aggiornati Seguitemi la insomma Speriamo di riuscire a guarire un po' E vi auguro una buona giornata Ciao ragazzi Speriamo di riuscire a guarire un po'